Buon pomeriggio, buona settimana, ben trovati agli amici che ci seguono da questo istante sugli schermi di Bergamo TV, buon proseguimento all'ascolto degli amici che sono con noi questo pomeriggio sulle frequenze di radio alta. Come promesso parliamo di salute, argomento come sempre importante e interessante che ci coinvolge tutti e devo dire soprattutto l'ambito del quale ci occupiamo quest'oggi e lo facciamo in occasione di una serie di iniziative che sono messe in atto da una realtà che i nostri telespettatori e ascoltatori ben conoscono che è Politerapica, Terapia della Salute. Do subito il benvenuto al dottor Pasquale Intini, ben trovato, grazie per essere con noi. Sono io a ringraziare voi dell'ospitalità, siete sempre squisitissimi e saluto tutti gli ascoltatori e i telespettatori naturalmente. A cosa prima di presentare l'altro ospite vorrei un'introduzione da parte sua, ricordando anche una bella iniziativa che continua già da alcuni mesi dobbiamo dire, che è Medicina Vicina, che ha un'opportunità effettivamente di avvicinare tutti noi, la popolazione, alla medicina specialistica. Per certi versi, non dico proibitiva, però è un po' difficile da avvicinare, vero dottor Intini? Noi abbiamo pensato Medicina Vicina come una risposta a delle esigenze che ci parevano abbastanza evidenti sul territorio e le esigenze erano quelle di mettere a disposizione della popolazione le possibilità di accedere a visite specialistiche di altissimo livello. I nostri specialisti sono tutti veramente di altissimo livello, con una notevolissima esperienza alle spalle, una seniority, come si direbbe in ambiente aziendale, senza liste di attesa, per cui professionisti di altissimo livello, senza liste di attesa, ha dei costi che sono estremamente accessibili. Una visita specialistica in politerapica ha un costo pari a 60 euro, che è un costo direi abbastanza accessibile. Su cosa concentrate la vostra attività e il vostro focus, la vostra attenzione per questo mese di giugno, dottor Intini? Questo mese di giugno noi abbiamo pensato che fosse importante, non per la prova costume o per queste cose qua, ma fosse importante dedicarlo alla nutrizione. E quando parlo di nutrizione io parlo di una, diciamo così, funzione essenziale per la vita. Noi possiamo fare qualunque cosa, ma se non ci nutriamo inevitabilmente moriamo. L'essere vivente deve nutrirsi per vivere. Nutrizione però non è solo ingestione di alimenti, nutrizione è una cosa estremamente più complessa. Quando parliamo di nutrizione noi parliamo di mondi molto grandi, compenetrati tra loro. Uno è il mondo dell'alimentazione, noi dobbiamo scegliere cosa assumere, come assumerlo, quando assumerlo e in che quantità assumerlo. E questa è l'alimentazione, tutta la parte, diciamo così, dietistica. Ma insieme all'alimentazione, quindi a quello che ingeriamo per vivere e beviamo, lo dico ancora una volta, non si beve mai abbastanza, mi sto riferendo in particolare all'acqua naturalmente, l'altra parte essenziale del mondo della nutrizione è la digestione, quindi tutta la funzionalità gastrointestinale dell'apparato digerente. L'apparato digerente è una parte estremamente complessa nel corpo umano, ha una lunghezza enorme, è fatto di tanti organi e sono tanti organi che svolgono un ruolo essenziale, acquisiscono gli alimenti e li mettono a disposizione dell'organismo, ma è una parte che necessita assolutamente di essere curata e conosciuta e salvaguardata, perché se non funziona noi possiamo alimentarci al meglio, ma non ci basta. E a questo punto posso, e con piacere lo faccio, salutare e presentare l'altro nostro ospite, che è il dottor Andrea Balducci, gastroenterologo, che ci aiuta proprio a capire che cosa combiniamo per far sì che questo apparato così importante e complesso, come diceva il dottor Valentini, non funzioni, come possiamo invece aiutarlo a funzionare meglio e quali sono anche i controlli che è opportuno fare. Innanzitutto, dottor Balducci, è vero che funziona sempre meno bene per le nostre cattive abitudini, per la scarsa attenzione che noi prestiamo a tutto questo ambito, il nostro... Allora, innanzitutto, buon pomeriggio. Sì, perfettamente d'accordo che un'alimentazione scorretta che noi abbiamo preso o ereditato un po', non tanto dal vecchio continente quanto dal nuovo, gli americani ci hanno condizionato in maniera spaventosa con delle abitudini quanto mai negative e tutti questi errori dal punto di vista proprio gestionale dell'alimentazione hanno portato a dei difetti che poi sono rimbalzati a livello dell'apparato digerente. L'apparato metabolico, epatico, pancreatico ha subito sicuramente dei danni negli ultimi anni per un tipo di mix alimentare in cui i grassi, specie grassi saturi, hanno preso piede in maniera pesante oli come il teleterio olio di palma che ormai non si trova dappertutto, perché se uno va a vedere anche nei biscotti per i bambini per cui... e tutto questo ha portato a un impasse sia funzionale a livello epatico con aumenti di quella che si chiama la colestasi, colestasi cioè una stasi biliare che ha incrementato in maniera notevolissima la comparsa di disturbi delle vie biliari e di calcoli che non hanno solo una componente genetica ma anche una componente legata all'alimentazione e poi tutto quello che è l'alterazione del mondo biotico, cioè dei batteri che noi abbiamo e che vivono nel nostro organismo e che si sono modificati a causa di situazioni di introduzione di cibi alterati che hanno cambiato la conformazione di questa flora batterica e quindi oggi come oggi si sta rivalutando tantissimo il discorso dei probiotici come terapia si è arrivati ultimamente, sembrerebbe una cosa assurda ma in certe infezioni come superinfezioni da antibiotici noi abbiamo anche l'escamotage del trapianto fecale si chiama, cioè prendere le feci, mixarle tirare fuori la flora batterica sana e inserirla per via endoscopica a livello cecale per combattere questa superinfezione da bacillo difficilis che è molto pesante quindi addirittura le nostre cattive abitudini hanno modificato in qualche modo il nostro modo di essere ecco, una prima soluzione, una via d'uscita potrebbe essere correggere per esempio il nostro modo di alimentarci e quindi ciò che noi assumiamo lei faceva riferimento a tutto ciò che di raffinato, di trasformato non solo la cultura gastronomica statunitense ma anche la fretta, i tempi e le abitudini hanno portato a consumare qui dovremmo invece preferire cose più semplici che però già ci appartengono ma noi basterebbe ritornare a quella che è la struttura base riconosciuta come la migliore che è la dieta mediterranea, cioè la dieta mediterranea ricca di legumi, ricca di fibre ricca di scarsa di grassi e ricca di frutta ha sicuramente dei vantaggi a livello di protezione dell'apparato gastroenterico e di vita, di prolungamento di vita sana questo è stato dimostrato, non è una cosa campata per aria la catena alimentare che ha ripreso molto corpo con la famosa piramide che è quella in cui gli alimenti più utilizzati devono essere quelli della base che sono appunto le fibre, le verdure, la frutta, tre volte le fibre, le verdure prese tutti i giorni anche per un controllo del peso all'inizio del pasto certo non alla fine o non durante perché avendo noi una incapacità di gestione delle fibre introducendole all'inizio del pasto creiamo come una specie di gabbia in cui dopo i carboidrati e i grassi che introduciamo durante il pasto vengono presi, inglobati e liberati molto lentamente questo è una cosa che ha sconvolto un po' il discorso della biochimica il discorso della affinità insulinica e della risposta insulinica a stimoli da zuccheri semplici cosa vuol dire? è un po' difficile ma se io introduco degli zuccheri mettiamo la marmellata, il miele la bomba di introduzione a livello dell'intestino è immediata quindi la risposta che il pancreas dà con l'insulina è altrettanto immediata se invece io modulo la penetrazione a livello dell'assorbimento lentamente di questi composti glucidici di questi zuccheri, non ho questi stimoli completi che nel tempo mi danno quella che è la sindrome metabolica cioè uno scompenso pancreatico, un diabeto e tutti i problemi quindi un consiglio su cosa, l'alimento con il quale non cominciare il nostro pasto i formaggi non cominciamo da lì e quelli lasciamoli da parte il più possibile per noi bergamaschi in effetti è dura però i formaggi sono sicuramente da tenere i grassi in generale e poi la carne la carne rossa ormai si sa che deve essere una parte minima dell'alimentazione preferiamo il pesce a questo molto siamo partiti addirittura dalle modifiche al nostro organismo che si sono prodotte nel corso degli anni e siamo arrivati a dire cosa è meglio correggere nella nostra alimentazione tuttavia talvolta si rende necessaria una visita, un controllo proprio da uno specialista che cosa avete studiato quindi per questo mese dottore? in questo mese che dedichiamo completamente diciamo in modo del tutto particolare alla nutrizione quindi all'assunzione di cibi corretti e alla salute dell'apparato digerente abbiamo pensato di mettere a disposizione della popolazione le visite specialistiche dell'una e dell'altra specialità quindi nutrizione e gastroenterologia ad un costo un pochettino più basso di quello che è già il costo normale relativamente basso e quindi non più 60 euro ma 50 laddove la differenza debba servire in qualche modo di stimolo per portare l'attenzione su questi due temi così importanti a proposito dell'importanza dei due temi ci ha detto un attimo fa il dottor Balducci che peraltro lo dobbiamo dire oltre ad essere membro del team di medicina vicina è comunque uno straordinario gastroenterologo in esperienza eccezionale in provincia di Bergamo notissimo il dottor Balducci ha detto che la nostra scorretta alimentazione è arrivata addirittura a modificare alcune parti del nostro funzionamento io vorrei aggiungere che un altro grosso problema che noi abbiamo con il nostro corpo e con la nostra salute è quello di tendere ad abituarci alle cose strane del nostro corpo della nostra salute e tocco un tema così banale l'ho detto anche in altre occasioni lo ripeto oggi in Politerapica noi ci occupiamo tantissimo di pavimento pelvico e quando parlo di pavimento pelvico parlo di incontinenza ma parlo anche di prolassi, parlo di problematiche di questo genere sia di tipo ginecologico, sia di tipo urologico ma anche e soprattutto di tipo proctologico che poi sono quelle del retto e non c'è una storia di prolasso che non abbia alle spalle una storia di stipsi di stitichezza non trattata, non curata noi semplicemente ci abituiamo a questa disfunzione come ci abituiamo ad altre e non ci rendiamo conto che la cura e la corretta funzionalità del nostro intestino è essenziale non solo per la digestione corretta degli alimenti ma anche per la salute del corpo e allora cogliamo i suggerimenti anche che ci dava per l'alimentazione ma poi rivolgiamoci naturalmente al dottor Balduccio uno specialista per correggere e sistemare le cose che non vanno bene laddove anche ci fosse bisogno di un intervento di tipo terapeutico e farmacologico naturalmente però già nel nostro stile di vita possiamo correggere alcune cose e aiutarci a stare meglio ricordiamo il numero telefonico di Politerapica? Politerapica via nazionale 93 Seriate il numero telefonico è 035 29 8468 035 29 8468 per fissare gli appuntamenti per le visite specialistiche con gli specialisti di medicina vicina e naturalmente con il dottor Balducci e non dimentichiamoci il dottor Balducci oltre che di intestino si occupa di stomaco noi ci abituiamo al bruciore di stomaco ci abituiamo al dolore di stomaco invece no va assolutamente curato grazie grazie a Pasquale Intini per Politerapica Medicina Vicina terapie della salute grazie al dottor Andrea Balducci gastroenterologo per essere stato con noi buon lavoro e a prossimi appuntamenti e tra poco voltiamo pagina